si ragazzi bentornati a una nuova puntata nel mio canale oggi andiamo a vedere il gameplay a due giocatori di little town ho già fatto un primo video tutorial che vi lascio sotto in descrizione nel link prima di cominciare come al solito vi ricordo di iscrivervi al mio canale di supportarmi su patreon se non lo avete ancora già fatto ora possiamo partire abbiamo il giocatore viola e il giocatore arancio il primo giocatore è quello viola il quale prende uno dei suoi worker andiamo a vedere lo piazza qui e così facendo prende la bellezza di due di pesce e uno di legno vedete due di pesce e uno di legno se li aggiunge alla sua riserva e ora tocca l'arancio arancio vediamo vediamo potrebbe andare qua prende due di legno e uno di pesce quindi due di legno e uno di pesce se li aggiunge alla sua riserva ora tocca al viola che posiziona il suo meeple qui e prende un pesce una pietra e un legno quindi un pesce una pietra e un legno se li aggiunge alla sua mano ora andiamo avanti con l'arancio l'arancio bisogna anche lui di un po di pesce l'arancio direi che si posiziona qui e va a prendere un pesce e una pietra ora tocca al viola il quale va a costruire e prende 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 un whitefield quindi questo qui vedete costa uno di legna da tre punti vittoria e dopo rende uno di grano lo va a posizionare qui al centro spende uno di legna ci mette una casina del suo colore sopra e prende la bellezza di tre punti vittoria ora tocca l'arancio che costruisce anche lui lui costruisce questa tessera qui costa due di legno quattro punti vittoria e trasformerà una moneta in tre di legno va a posizionare in questa posizione ci mette sopra la casina arancione prende i quattro punti vittoria e la paga due di legno tocca al viola il quale va su questo campo e prende come vedete uno di pesce due di pesce e uno di grano quindi prende due di pesce uno di grano gli aggiunge alla sua riserva ora ha risorse sufficienti per far mangiare i suoi lavoratori vedete che arriva 5 l'arancio no invece ha solo due di pesce quindi deve iniziare a svegliarsi per farlo direi che viene in questa posizione prende un legno un pesce e un grano pagando una moneta gli prende un legno un pesce e un grano per farlo però deve pagare una di queste monete quindi da dentro tre li cambia ne da uno all'altro giocatore e due se li prende lui tocca al viola il quale viene in questa posizione prende tre di legno e li aggiunge alla sua riserva l'arancio invece viene qui prende un legno un pesce e cambia una moneta con tre di legno quindi prende un legno e un pesce paga uno e li cambia con tre di legno abbiamo finito il turno quindi dobbiamo andare a dar da mangiare ai nostri lavoratori ognuno paga 5 il giocatore di sinistra spende 5 di fish da da mangiare a tutti in più attiva anche il suo obiettivo feed all your workers with fish quindi questa carta la scarta e prende i due punti vittoria dell'obiettivo il giocatore di destra invece paga 4 pesci e uno di grano e anche lui ha dato da mangiare a tutti i lavoratori i lavoratori tornano a casa incomincia il round 2 e il segnalino primo giocatore passa a sinistra tocca al giocatore arancione che prende uno dei suoi worker e va a costruire vediamo vediamo si posiziona qui quindi raccoglie due di pietra e può scambiare una moneta per tre legni raccoglie due di pietra e può scambiare la sua ultima moneta per tre di legni a questo punto ha questo obiettivo ve lo faccio vedere eccolo qua ev zero monete tre punti vittoria quindi lo completa lo scarta e prende uno due tre punti vittoria tocca al giocatore viola il quale parte e va in questa posizione prende uno due di pesce un grano e un legno due di pesce e un grano ora tocca di nuovo all'arancio il quale costruisce e va a prendere questa tessera qui ve la faccio vedere costa due di pietra cinque punti vittoria subito con due di legno trasforma tre punti vittoria la piazza in questa posizione la paga due di pietra prende i cinque punti vittoria uno due tre quattro e cinque e ci mette la casina sopra tocca al viola il quale va a costruire anche lui e costruisce vediamo vediamo questa costruzione qua costa tre di legno cinque punti vittoria trasforma due monete in due di pietra questa c'è la piazza qui la paga tre di legno si mette sopra la sua casetta prende uno due tre quattro cinque punti vittoria e ha fatto tocca al giocatore arancio vediamo vediamo il giocatore arancio deve iniziare a pensare al cibo va qui e raccoglie due di pesce uno di wood il grano non può invece perché non ha più monete quindi prende due di pesce e uno di legna il viola il viola il viola va qui prende uno di legno uno di pesce uno di grano e poi può attivare questa può spendere due monete per prendere due di pietra cosa che fa quindi da dentro tre prende indietro uno e prende anche due di pietra tocca all'arancio il quale va a costruire costruisce questa situazione qui costa tre di legno cinque punti vittoria ti dà secchi due di pesce se la costruisce in questa posizione quindi paga i tre di legno qua li mette via e prende i cinque punti vittoria uno due tre quattro cinque ci mette sopra la casina del suo colore tocca al viola il viola va a costruire prende questa building ve la faccio vedere meglio costa due due sette punti vittoria trasforma un pesce e un grano in quattro punti vittoria la sistema qui la paga due legne e due pietra prende sette uno due tre quattro cinque sei e sette e si sistema la casina sopra dopodiché completa questo obiettivo anche se l'aveva realizzato in un turno prima fa una costruzione che costa almeno tre di legna e l'aveva fatta qui vedete costa tre quindi lo dà dentro e prende due punti vittoria prende altri due ora tocca all'arancio l'arancio si posiziona qui vedete prende un pesce può scambiare due legni per tre punti vittoria altri due pesci due di legna e questo può decidere se attivarla o no quindi prende due di legna che però li spende per prendere tre punti vittoria uno due tre tre di pesce totale quindi riesce al pelo a far mangiare i suoi worker e questa decide di non attivarla perché non ha il grano da dentro poi questo obiettivo che dice build three buildings rispettivamente adiacenti o diagonalmente adiacenti a un lago, montagna o foresta questo l'aveva fatto il turno prima vedete questi sono adiacenti a una foresta e questi sono adiacenti a un lago diagonalmente quindi lo dà dentro e prende altri uno due tre punti vittoria tocca al viola che ha il suo ultimo meeple il viola va qui prende uno due tre di legna e trasforma due monete in due di pietra quindi tre di legna e trasforma due monete in due di pietra turno finito ora tutti i giocatori devono dar da mangiare i loro workers il viola spende 5 e i suoi workers sono a posto l'arancio spende anche lui 5 di pesce e i suoi sono a posto ritirano tutti i workers il marker primo giocatore passa a sinistra quindi torna ad essere il viola e andiamo a round 3 parte subito il viola che viene in questa posizione prende due di pesce un grano un legno e può decidere se trasformare un pesce e un grano in quattro punti vittoria direi che lo fa quindi un pesce e un grano non li conta prende un pesce e una foresta e quattro punti vittoria uno due tre e quattro tocca di nuovo l'arancio invece che va in questa posizione prende di nuovo due di legna che li trasforma in tre punti vittoria e tre di pesce e questa qui non l'attiva perché non ha grano quindi prende tre di pesce e tre punti vittoria uno due e tre tocca al viola al viola al viola il viola a questo punto costruisce va a prendere questa costruzione qui ve la faccio vedere meglio questa costruzione da costa tre legno tre pietra da punti vittoria a fine partita da due punti vittoria per ogni spazio vuoto intorno alla watchtower direi che la sistema qui paga tre di legno e tre di pietra ci mette la casina sopra e farà punti vittoria alla fine della partita alla fine del turno va a dare dentro un obiettivo ve lo faccio vedere meglio costruisci una costruzione che produce o consuma pietra questo lui l'aveva fatto prima perché vedete questo produce pietra quindi prende la bellezza di due punti vittoria avanti di due ora tocca al giocatore arancio che viene qui e costruisce con tre di legno questa tessera permette di trasformare due risorse che vuoi in altre due che vuoi tu cinque punti vittoria la sistema in questa posizione paga i tre di legno ci mette sopra la casina e prende tre punti vittoria tocca al viola che viene qui prende due di pesce e un grano se li aggiunge l'arancio viene qui monete non ne ha può trasformare due risorse che vuole prende un pesce può trasformare due di legno in tre punti vittoria uno di legno e questa non può attivarla quindi prende un pesce uno di legno cambia due di legno con tre punti vittoria e poi cambia due di legno con due di pietra tocca al viola il viola va qui raccoglie due di pietra queste due non le può attivare perché non ha soldi quindi prende i due di pietra tocca all'arancio gli manca uno di cibo va qui e prende tre di fish e uno di legno e aggiunge tutto il viola prende altri due di pietra prende e se li aggiunge l'arancio prende uno di pietra e un legno uno e uno due fine del turno i giocatori fanno mangiare i loro amati worker il viola spende 5 senza problemi l'arancio spende 5 anche lui il giocatore passa a sinistra e si avanza di round tutti i worker tornano a casa e comincia l'ultimo round vediamo parte l'arancione l'arancione va a prendere due di pietra e può trasformare due risorse che vuole gli prende due di pietra e direi che non trasforma altro tocca al viola che va a costruire prende questa costruzione paga 4 di pietra da 8 punti vittoria e da 3 monete la piazza qui la paga 4 ci mette la casina sopra e prende 8 1,2,3,4,5,6,7,8 l'arancio costruisce prende il castello costa 6 di pietra da punti vittoria alla fine della partita da 4 per ogni edificio in nostro possesso di fianco al castello quindi negli 8 spazi intorno lo piazzo qui pago 6 ci metto sopra la casina a questo punto vado a fare questo obiettivo devo avere almeno 3 building che si toccano su un lato o sull'altro ho queste 3 che si toccano e prendo 3 punti vittoria tocca al viola il quale si posiziona qui e prende 2 di pesce 1 grano e 3 monete 2 di pesce 1 grano e 3 monete l'arancio si posiziona qua non ha il grano quindi questa non l'attiva può scambiare 2 di legna per 3 punti vittoria prende 2 di legna e 3 di pesce quindi in sostanza prende 3 di pesce e 3 punti vittoria prende 3 di pesce così col cibo questo turno è a posto e poi prende 3 punti vittoria 1, 2 e 3 il viola va in questa posizione prende un grano e 3 monete questa building non l'attiva quindi un grano 3 monete e alla fine del turno da dentro questa carta che dice che devi avere almeno 6 monete lui ne ha appena prese 6 prende 2 punti vittoria l'arancio costruisce prende questa tessera non gli interessa ma la prende solo per i punti vittoria nell'angolo e se la costruisce qui sia perché farà prendere più punti alla watchtower perché negli 8 spazi intorno e anche perché farà prendere meno turni alla watchtower avversaria cioè questo è il castello alla watchtower avversaria perché deve avere gli spazi intorno vuoti quindi la paga i 2 di legno ci mette la casina e prende 1, 2, 3, 4 punti vittoria il viola va qui prende un grano e se lo aggiunge un legno e lo prende più pagando una moneta può prendere un pesce e un grano però deve pagare anche una moneta a chi ha l'edificio quindi l'arancio quindi lo fa cambia 3 monete in 3 pezzi da 1 i quali uno lo spende alla banca e l'altro lo dà all'altro giocatore per poter prendere un grano e un pesce che li prende ma li dà dentro subito per attivare quella sotto che invece è di sua proprietà che dice con un grano e un pesce prendi 4 punti vittoria e quindi va avanti di 1, 2, 3 e 4 l'arancio non ha più molto da fare quindi blocca questo spazio e prende 2 di pesce e uno di legna li prende e se li aggiunge alla propria mano il viola invece direi che fa lo stesso giochino di prima quindi prende un grano paga una moneta alla banca e una moneta all'altro giocatore per prendere un grano e un pesce che poi va a spendere per 4 punti vittoria quindi 1, 2, 3 e 4 la partita è conclusa i giocatori sono praticamente pari dobbiamo andare solo a vedere quante monete hanno i giocatori perché ogni 3 fa un punto e ne hanno entrambi 2 dopodiché dobbiamo andare a contare quelle a fine turno ritiriamo tutti i lavoratori dobbiamo dar da mangiare ai nostri worker quindi lo facciamo lui paga 5 e anche l'altro giocatore paga 5 dopodiché abbiamo la watchtower che prende 2 punti per ogni spazio vuoto intorno a sé quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e fa 12 punti abbiamo 12 punti al viola 1, 2 più 10 55 l'arancio invece fa 4 punti per ogni sua costruzione intorno al castello quindi 1, 2, 3, 4 4, 4 per 4 12 4, 4 per 4 12 1, 2, 44 54 la partita è finita l'arancio non è riuscito a fare il suo ultimo obiettivo da 3 punti che gli avrebbe dato la vittoria ma le costruzioni che davano producevano soldi erano limitate quindi non è riuscito a farlo mentre il giocatore viola anche se è partito un po' più un po' più traballante è riuscito a farli invece tutti e 4 e quindi si porta a casa la vittoria per un punto solo ragazzi questa è la fine del video io vi lascio in descrizione tutti i link utili vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo alla prossima puntata grazie a tutti